Ne seguirà un altro successivo all'arrivo dei nostri babbi e mamme Natale, proprio sotto la spiaggetta dove ci sarà un piccolo buffet di dolci per i nostri piccolini. Questa è stata un'iniziativa sposata da tutti i partner che hanno dato uno sponsor alla realizzazione della giornata, in particolare dobbiamo ringraziare il gruppo SUP Salento, Porto Selvaggio Terra Nostra, il comune di Nardon, la SDE Salentina Atletica, Canoa Kayak Salento, Lega Ambiente e Salento SUP. Il SUP è una cronica di stand-up paddle, tu lo sapevi? Ma li hai mai visti? E quindi guarda, guarda, se tu adesso guardi in fondo, stanno arrivando, c'è una tavola e una pagaglia e a bordo ci sono i nostri babbi e mamme Natale. Grazie a tutti. Colini, lo scopo, l'azione è stata proprio quella di promuovere non solo questo sport, tanto anche desiderato dai nostri turisti, che popolano le nostre marine, soprattutto nel periodo estivo, ma è sempre quello di avvicinare i giovani a questo sport che richiede tanta energia, tanto equilibrio, ma soprattutto uno sviluppo e un lavoro in tutti i muscoli del nostro paese. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.